È di Francesco Pantaleo, lo studente siciliano scomparso da Pisa il 24 luglio scorso, il cadavere carbonizzato trovato sul ciglio di un fossato ad Orzignano nel comune di San Giuliano Terme. I due casi di cronaca di cui ci siamo occupati negli scorsi giorni si sono incredibilmente incrociati con il riscontro in queste ultime ore del DNA comparato con i genitori del ragazzo che non lascerebbe alcun dubbio. Secondo i carabinieri il giovane potrebbe esserci ucciso anche se si stanno valutando. Tutte le ipotesi del caso e l'autopsia delle prossime ore stabilirà se ci sono segni di violenza esterni. Il padre nelle scorse ore ha scritto un post su Facebook mio figlio Francesco non è più con noi ad essere tra gli angeli. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino il signor Tonino insieme alla moglie era arrivato dalla Sicilia nelle scorse ore alla disperata ricerca del figlio mai e poi mai. Avrebbe pensato che quel cadavere ritrovato a San Giuliano Terme avrebbe potuto essere quello di Francesco uno studente universitario di 23 anni forse con qualche difficoltà per gli esami universitari non superati e che lo avrebbero portato ad un isolamento che spesso molti studenti soffrono. Molto spesso ci sono i vari confronti con i compagni con i colleghi eccetera che ti portano in uno stato mentale che diceva io non ce l'ho fatta, non ce la faccio, non sono all'altezza e entri diciamo in un baratro di pensieri. Tutto è una cosa mentale però spero di sentirne sempre meno a parlare. Però... il campo dista alcuni chilometri dall'abitazione dove Francesco viveva l'esame autoptico delle prossime ore chiarirà un puzzle che con il DNA ha fatto incrociare drammaticamente due casi.